Di quello che pensavo Come? Forse ce l'ho fatta in molto meno di quello che pensavo Vediamola Ok, sembra partire Il microfono, il microfono sembra esserci Perfetto Ok Igualmente Con il tuo cellulare si può fare una prova Audio Audio L'audio Sì Ci abbiamo messo meno tempo del previsto Salute Siamo tornati Ciao di nuovo Siamo tornati Hello again Yep So Vediamo Allora Io non so chi sia questo Perciò Per il momento Hola Hello Hello Welcome Ora si, ora si, ora va Ora andrà What is the pass? Ok What is the pass word? Ripartiamo adesso We will do a new match after this Reflect Si, 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 ora sta Victor Ora parece ser tutto bene And we will do a new match with the pass word And we will do a new match with the pass word Now we will do a new match with the pass word We will do a new match with the pass word We will do a new match with the pass word Ciao Sergio Ciao Sergio, tutto bene? Che dice uno? Si è lei che la batteria ha caricato 3, perché sono 3? Questo è vero Si è collegato uno Si è... No, se ne sono scollegati 2 Ah Bene Bene, uno perché la batteria è sicuramente Bene, e l'altra persona? Ah? 2, 2 2, 2 2, 2 Non uno Non uno Ciao Ciao The fox How are you? Ti 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 Ah? Ah 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 Eh... 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 De... Dartelo il domingo Però te la vi ha dice Quando si ha la selezione Quello che tenia a dovere Cosa si... Eran tu io Che cosa che tenia a dovere? Eh? Eh... 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 All'orzo Bo... geni don't usually do squid paris no anzi ora ora quando abbiamo persone che ha scripta che fanno scritto calzate varie a spiello prossimo aspetta lo sicuro ma che sono primi secondi perché già vedo troppa gente che sta scrivendo ea per quello il don donato subito non dire che era benvenuto no a chi ma così si è sempre come avevo fatto l'inizio di ricordi ti ricordi quando all'inizio vorrei nessuno faceva script party ma lo facciamo e no fox noi timo sauris per test no e non ti hanno sentito è che devi dire a le persone io non voglio dividir a niente è meglio che creiamo un tema entre tutti e ci posizioniamo il rispetto in questo per fortuna che grazie non è che non ha fatto se qualcuno vuole sorgio non è che non ha fatto wash e a querido sia sido quindi franca yote pure son andate son andati via un po' corto un po' lindo discorso, un po' corto ma lindo no, è vero penso che si si tiene que dividere la gente che sia più por... io entendo quasi a los platfests perché vogliono che sia così banale che non dividere la gente sì, Tyler è davvero male non mi piace il flow non è buono non lo ripeto più Sergio se va a jugar a Salmon è buono è buono è buono è buono è buono non è buono in Salmon Run è tutto poche volte molto meno sì molto, molto meno è buono e lì si è un treno in serio perché ademà si tenerebbe in controllo io voglio giocare ragazzi oggi è una giornata di quelli che vorrei giocare il più possibile sai la pregunto sì, Vittorino intanto noi siamo dos porto pazienza cioè di riportare pazienza però questo vuol dire si sta dicendo che vuole hackeare rispetto a uno ah sì per farlo per farlo per mettere cose nuove minchiate varie e tutte ma dice che è troppo è troppo scemo per farlo e che ah è troppo è troppo scemo è troppo scemo per fare un secondo account perché non li lasciano qua ok ciao di voi dai a Yuno chiedi 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 in tedesco che cosa offre il mod di la modifica Yuno cioè nel senso se da personaggi cosa fanno ma ma scherzi in cosa tu dà tu dà tu dà quale cambiamenti c'è quindi la domanda è Sergio se qualcuno chiede in che no che sì qualcuno si vuole dire con due di quelli che non sono entrati chiaro che poi questa cosa è sempre una cosa anche della fede os cambiaste la foto del perfil se es decir non sta nada malo la tua te l'ha cambiato? sì è verda ho messo quella quella che mi ha fatto Sara è verda è verda lo ha hecho una una jugadora che juega con nosotros quale per la foto del perfil es primavera mi dice daño è del ala minchia cioè tra cui credo che veramente il mago non riesce a fare una partita non riesce a fare una partita e ora mi sono disconnettato oh wow Tyler se non è qualcuno altro è tu perfetto siamo completi madre mia tutti i dipendenti alla fine del wifi si si la cosa brutta è quella se le venivano a regalare il wifi wifi mica wifi è stato constipato un nostro per sempre una amica mia con la fonds della vita io 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 ma non sto preparato per giocare Victor ancora non ho il riflesso dei dei giocatori è la tercera partita che faccio la seconda la seconda partita no cos'è la oh boh sta jugando a doca ora viene chi è questo egoidi con i soldi non lo so boh boh hai sempre mago anche che si sta scollegando ah oh wow non sapevo cosa poteva fare ah cosa saltare lì boh 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 questa partita è stata veramente brobriosa curiosa Tyler e Mako che sono quelli che sono disconnessi per la fine eh uno dei due deve star fuori no questa è la cosa che fa male anche no gli stream perché poi al fine si cadono no non è giusto però è giusto quindi che lasciamo fuori boom no no vai vai quindi lasciamo fuori qui e che è un corno neanche c'era vediamo se si disconnettono eh se anche questa volta si disconnettono due sì sì partito io non so non è l'unico con le armi rarmi però diciamo che gli piace molto cambiare il arma vero Sergio io 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 non so 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 ok ok danken per la info allora vediamo cosa è che salita io ci dici che dici che dici che dici da 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 carl vediamo se viene marchito sì ora ora ti vuoi aggregare eh già ok che raro ci sono un paio di persone di aggregar da aggregations aggregation simulation na 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 ah a vero minchia caduto di nuovo ma non ci credo nooo non ci credo ma che triste dai amicizia 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 e no room eh perché abbiamo fatto già due sì sì eccolo marcos benvenido ah ma ce l'avevamo già sì o che sì 365 mi ricordo le ore c'era lui ok nuova room sì sì partita l'alcissimo e il codico per stasera possiamo ascoltarci le giocate di Mako con in ma no Quinti Chi c'è? Che arriva? Che arriva? Vediamo chi è l'ultimo Vediamo chi è l'ultimo La vera che è nell'ultimo Minchia Pongo il gol Io l'odio Pongo il gol deve morire E qui E fino a qui ci siamo Quando è la prossima volta? Sergio, non lo sei? Organizziamo? Parlare con Con tu Per quanto si può Vendrai Sin problema Ciao Un'animale Per la fine E poi ragazzi Delle cazzate nostre In chat Qui non si parla Vale per tutti Ok? Sto anche prendendo due pesi Due misure Perciò Non so Sì 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 niente niente Sergio lo dice in live per farci inrelucire uno stronzetto Sergio por aqui se sta rumoreando che lo dite es para darles envidia che eres uno stronzetto non so ne come se dice in spagnolo è un pequeño simpatico trocetino di algo di non ti preoccupi un bicho malo nooo e noi disturbiamo i nostri giocatori mentre il codice qual'era? 2580 uff su su 2580 wow grande reflex good 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 e bo 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 uuuu 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 oddio ma sai chi è? ma sai chi è questo qui? è marviu chi? è il marwi yu è il nero, è il marwi yu perché è troppo si sta facendo un sniper? no no ma è troppo lui lo vedo da come si muove buffone, buffo mi sa che è lui eh? si? si si marwi visto qui? mi sa che è lui non vorrei dire una minchiata però a ver che gioco sui l'equipo? ahci no, il reposto ahia con lo sniper vabbè ma sniper ce n'è tanti se io dovessi pensare a uno sniper e vabbè ma ce n'è altre persone con uno sniper bene per quello io ti dico per come si è mosso in un'occasione mi è sembrato lui si 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 è chiaro si vede che non ha giocato per 4 giorni è stato cancellato e è tornato perché qui finisce veramente dopo un po' adesso siamo arrivati a un punto ragazzi che stiamo cancellando tutti non è 10 giorni offline adesso è 3 giorni si 2 chiaro stiamo in più solo dobbiamo iniziare a cambiare i criteri con la gente che non ci suona di niente proprio che diciamo che ci ha aggiunto una volta ma il più giocato anche se ogni giorno online neanche poi alla fine rimane la community no tanto poi alla fine i codici il mio codice anche se cancellassi sve o cancellassi tutti ce l'hanno le persone che mi sono vicine il mio codice l'ho messo disponibile di tutti i lati però bella partita GG good game good game good game good game ma hai fame hai fame l'ho mai fame quer game quoda qui svegon 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 e igo di soldi a fuori Igo di soldi Igo di soldi minchia 26 kg allora, Igo di soldi e Serge vi ho visto con l'arma che ti ho detto a ieri che mi piace tanto ora beh a quanto pare anche senza Marco ci sarà divertimento a me comunque mi piace ci sposiamo io e te non dire cazzate nessuno ha buttato fuori nessuno ha buttato fuori si vuole andarsene ovviamente può ma non è il nostro disegno vogliamo solo gente adesso ho un moderatore italiano un moderatore spagnolo una modellatrice tedesca e io basta copro tutte le lingue basta per dire allora scegliamo in serietà il ruolo di moderatore perché lui non lo so esagero a volte ma non ne voglio parlare ripeto perché è giovane ha i suoi motivi solo che il ruolo di moderatore devo darlo a qualcuno che mi faccia da moderatore punto punto ok sarei ok ok ai Victorine stai todos ansiosos se nota dollar sarà frang frang eh casetta ma posta per favore il video il video per noi che era posta che era posta ah metto il link fai? vale questo quanto? a me? se io te lo faccio di là no no chi sarà? pensiamo che è Marviu però non risponde nooo Omar oh bello ciao Omar guarda ti chiedo un favore puoi aprire il link il link che ho postato sopra chihi perché veramente ciao Omar ci terrei più che apri quel link che non che giochi con me perché gente ha detto che questa è arte altri hanno detto che è un no sense altri hanno venerato però qualsiasi cosa che poteva non? anche le moleste la 50 le moleste la 50 eh Sergio già ha jugato hace un ratito questa tarde ora mismo credo che no magari poi poi non se si stareis tutti escapò di voi perché sois demasiado fuertes oh 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 dovevi sposarsi chiaro perché ha detto sposati con fanta che differenti non posso fare niente non lo fa io ci sono personalmente a testa quindi Omar se sei ancora qua con noi vorrei sapere cosa ne hai pensato del link che ti ho inviato ci ho messo ci ho messo veramente tanto oh Japanese friend hello hi Japanese friend please check my video check my video please Japanese friend set nuova stanza una seconda al cubo grandioso al giapponese sì esatto Frank a nuova stanza new room nuova stanza nuova room and the brosista Caleb hola hola tuva lita hola Buongiorno Ok, Tyler, ci vediamo presto, grazie per giocare Bene, allora, non entri più Mako Mako avrà, minchia, uno scazzo addosso per la linea WIFIS Che non ne ha idea Cosa ha scritto? Bubble Chan? It's your other Yeah, 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 Bubble Chan She is one of first Japanese friends in here Mi piace Omar Non lo sei, non lo sei che ha scritto Sergio Oh, uno mas Che ha scritto Sergio? One more Ok, I'm going Il cuore Uno mas, no? Handicap match? No, giusto Siete lotto Oh, è vero Era perché me caes muy bien, ma ya lo sabe Grazie Eh, eh, eh Io quasi sempre la vedo un po' il mobile Però se sto jugando l'ordinatore E vedo che ha cominciato questo diretto Poco YouTube Gaming Si, YouTube Gaming è la migliore cosa Ragazzi, la migliore cosa è sempre YouTube Gaming Comunque Comunque Vediamo Ok Ok No, è rodiglio Solo è rodiglio Quello dei poveri però Tengo Quello Perché Esos pobres? Perché non hai otro mas avanzato Ah, si Ma tu puoi tenere Ah Eh No, tengo che comprarlo Victorino va a provarlo Non c'è acqua Vuoi che faccio Iniziare? Si, no? Esiste per le 11 Si Ma cosa puoi fare? Un po' che sei Hai capito che Si Per vicende Ok E quante le vuoi fare? Ah no, le volevi fare Tu le hai detto Ultima volta Ah No, io volevo solo mischiarti le cose Volevo fare una variazione in poche parole Alla ricetta Se vuoi condisci il latte Si, io faccio la cosa prima Una cosa Tu giochi un secondo Oppure fai da spettatrice Osh Grande Joy Joy Good Job Ah ma è vero Marco Non ci credo E che Hai solo fortuna L'esplatoon L'internet non tanto No, lui non ha fortuna Lui ha bravura Si, è vero Ma mi sa che è anche fortunato Deve essere bravo Io invece di bigliorare il peggio Qua Ehm 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 ma lui ha detto che domani non deve andare in scuola vero di sabato penso pasqua quando è la settimana prossima guarda che anche i miei miei hanno già libero oggi alcuni e domani non lo sapevo alcuni ma i più piccoli sono la cara i pe Indicngulo prendermi un canzone nuovo nella Splatune non ti toman la cadiera nel final tu la cantas e non voglio cantarla è solo costante io tengo ambra il nuovo film dimmi un registro un registro spagnolo un registro la nuova pellicola al Bodoar fai da spettatrice io ne so impostare da mangiare e festa perché nel mio paese è festa allora puoi giocare tanto non è molto iniziato oggi ok Frank quindi facciamo torre ora giocare jazz io l'altro dia ho giugato con il rodillo però la verità è che si me da meglio il salmon run quando mi tocca che ho giugato a proposito perché se non gioco io non puoi giocare neanche tu Frank ah vedo che nel paese di Marco è festa no ma anche qua c'è gente che non ce l'ha venerdì gessana 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 eh lo so ma quella lì come fai a farla ragazzi ma guardate che io quella cazza quel video cazzata che ho fatto stamattina è perché non cacavo no? e allora ho fatto quel video di merda ha sì ho capito ho detto già se ci ancora magari mi muERterà ogni video diciamo Frank Frank non c'è problema ma io mettermi a cercare non so se l'rha faccio mmmm oh Frank sai che lo senti via si diventa tovo ma vai per favore ah vai ah ah Oh, e io sono già pronta per essere esplodata. Ma fa davvero, eh, se vuoi. Ti dico sul serio. Ok, non so perché ho scelto... Oh, sono rimasta con quest'arma, in realtà. Ma il video di questa mattina penso che sia il mio video che tu abbia fatto, dice Mako. Quale? Eh. Che video hai fatto, Santina? È quello, no? Eh, ma non l'ho capito, cioè... Quello di reaction, reaction. È bello, eh. È una torre. È quello retro, Mako. Oh, mio Dio, non era quella torre? Che era il più bello che hai fatto. Che cazzo, è l'unico? Non fai due o un e mezzo? Un e mezzo. Sì. Non mettevo, è un litro? No, no. Qualcosa in più? 350 per metà, dico, ognuno. Quanto? 350, 400. Eh, un litro e due, eh? Sì. Sì. No. Non devi metterlo un litro. Sì. Guarda. Vedi cosa sto facendo, va. È difficile da spiegare. No, torre mobile, no. Un'altra volta. Adesso non entra nessun altro. Nadie più entra. Ok, Reflect, bye. See you soon. Thanks for playing. Va, chicos, mi pongo di spettatore. No? Eh? No, no, Sergio. Dimmi, Saletta. Dimmi. Perdona. Eh, sto facendo o la Manu o la Manuela. O la Manu. Creo che questa vez ha legato il turno, Manuela. Es verdad. Creo che l'ho borrata ieri. Si, creo che la borraste, si. E' borrata también 4 o 5 o 3 personas. Era saltata la luce. Freguito. Ma si. Adesso? Credo di no, Frank. Eh... Parlo, Sergio. Oli. Me gustaría che me viena una partita. Venga, voy a mirarte. Ya que estás aquí. Donde estás? Ah... Aquí, arriba. Vamos a ver a Marcos, va. Lo reprobo adentrar. Dai, Marco. Siempre es bueno a render, si. Si he dicho con Simisa, no? Ay, gracias, Manuela. No sabe mal, pero... La verdad es que... Está empezando a ser justito. Pero ya sabes, agrega de nuevo. Siempre que quieras jugar, nos agregas y... Te aceptamos, obviamente. Oh, gracias, Saletta. Gracias por haber jugado. Ci vedamos domani, todos juntos. Saletta se ne va. Oh, Saletta, un abbraccio. Scusa. Eh... Ci vediamo domani. Si. Poco... Poco operativi oggi, però... Sono stato fuori tutto il giorno, quasi. Oh, invita. Perciò... A domani. Domani e venerdì ribelle. Si. Non te preocupare, che ci divertiamo. Muy bien, Marcos, eh? Sì. 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 Oh, oh, oh. Esa bomba posicionada en la pared, estratégicamente estaba bien. Es bo... La zona splat, anche ora stia predominata per il lila-azul, gana chiaramente il verde, per ora. Le quedano solo due tempi. Muy bene. Mutus splat. Mutus, mutus, plat. Un mini switch per il gioco per vedere la situazione, come sta. Qui il dollar che non sappiamo che è splatando. Non sarà Enmat, no? Enmat non è ragazza. No, 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 no. Ah, si ha acabato la partida, molto bene. Ma che cazzo faccio? Perché io lascò a lei? Devo essere contenta, non triste. Oh, ma la minchia non ho visto che è entrato a me nel serio. Ah si? Comunque, a ver se una persona... Si, si, si. Marco, eh? Si è bloccato? No, si è fermato. Si è bloccato? No, si è fermato. No, si è bloccato. Ah, non so. Si è fermato solo... Non so se si è bloccato. No, tranquilla. Solo era tipo un pausa. Allora... Si, si. Si è bloccato. Cos'è andata bene, no? Si, si. Quindi... Nooo, giusti molto malo Dice per qui Ah, stai giurando di felicità Vale Kaleb, entiendo No ma non deve essere uno scherzo Non deve essere uno scherzo perché alcune persone hanno richiesto e lo hanno fatto deve giocare uno verso tre, uno verso quattro incluso Ok Dai Mako, speriamo veramente Aves, Manuela Tampoco tiene clase mañana Ves, no Ya sabía yo que no solo in Italia Nooo Dice que tiene el rodillo de los pobres, Sergio Que con ese rodillo se puede jugar A ver A ver A ver Io mi sembro con su perfil Oh Oh, esplato Joy No, esplato Esplato Chicos Chicos Che doc Che rodillo Markitos Hola Wow Ahora voy a terminar de hacer mi mi reset Donde estoy yendo? Ehhh Y bien Y me vuelvo por aquí La password La password era 26 Ma es la misma que antes 26 No? Lo he escrito Lo he escrito Lo he escrito Hace poco Venga no empecemos Giaiaiaiaia Gioca 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 Si Non lo trovo Dio mio Io 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 I O RATI RATI Si Ma Napoli fa Issa... Come stai Rattino? Facciamo un'altra nuova lobby Cosa mi arriva? Non ti preoccupi, abbiamo iniziato la lobby Ratti, rifacciamo la lobby in breve C'è uno sniper, c'è uno sniper, c'è uno sniper... Dove è andato? Ok Non l'ho vista Ma non c'è più Oh mio Dio Non ti aspettavo, io di dólar Che non sei un coi 25.80, vale, vedi? Algo così per il estilo era Io metto il trasporto, conoscendo il rischio Ah, poi sì Na 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 Non ti aspettavo Nooo Sergio, molto bene La riva Esa demostración rodillera Io ho arrivato a... A odiar realmente In Spaltoon Soprattutto in Spaltoon 1 Perché per mio gusto Soprattutto in Spaltoon In Spaltoon In Spaltoon In Spaltoon In Spaltoon Capito? Sì Code Vai 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 5 5 E gutenberg e Marco si s'è scolegato di nuovo prima eh Peccato Marco Mi dispiace Vabbè, guarda che se non è solo la... Sì, sì. Non c'è tanta gente, non si deve scusare se la conversione non mi tiene tanto. Hey, you! You son... Hello, welcome back. No, no, c'è questo lato. Uff, xxx. Chi è che è arrivato? You thought... Erano una... Che è una cuba verda? Vale, mischiamo, scambiamo a sapere che tocca. Torre mobile. Continuo? Eh? Se vuoi continua, eh? Cosa? No, adesso... Ah, sì, c'è, 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 c'è. Non so ancora, inizia solo. Inizia tu. No, ma è davvero. Cosa? No, no, ci provo. No, con quest'arma, dai, ci provo. Cosa? Te l'ho morito io. Ora mi è uno. Muy bien, Kaylee. Kaylee? Sì? Allora si va a unir. Ehi, Calamaco. Ciao, dai. Buonanotte. Oh, te ne vai, Macchino. Buon riposo. Ah, c'è un'altra persona nel mio team che ha acquistato la stessa arma. Ok, ci provo. Oh, ho paura. Debo averla. Animal de Bel, no me gusta verla. No sta triste. Eh? Vale, molto bene, Manuela. Però triste non sta. Credo che Calam non sta triste, sta contento. Por che? Non so. Solo io non stai triste. Un rodillo viene por là. Ese era Sergio. Però... Mi equipo è già occupato. È occupato, occupato, occupato. È splatt. È vai, splatt. È questo? Dove è? No. Uh, Marcos. La venganza. Io ho impostato tutto. Sì? La venganza japonesa. Allora? Ciao. Ciao. Ok. Cosa sta succedendo? Ok, qua c'è stato un lag enormissimo. Proprio si è spostato da otto metri. L'hai visto? Quello è il dollaro. Eccomi qua. Oh, là. Che sta facendo? Che passa? Che passa? Che cosa? Lì c'è un calbo, ma l'ho notato. Che passa, Calam? Che passa, my Japanese friend? Oh, no. Che passa? Che passa? Che passa? Oh, Caleb? No. Perché ha la sesta gara? Buonanotte, Ratti. Continuiamo nel gioco. E ci vediamo domani. E ci vediamo domani. O quando sia. Oh, ci sto giocando Fatal. Adesso vanno anche a vincere. Ok, ok. Buonanotte, Rattino. No, ma è Ratti di Igor Di Dollo. Ah, ma tu dici. È un scemo. Sei tu Ratti? E poi sei al livello 36. Ma no, ma Ratti non si metterebbe mai una ragazza, no? Con il profilo, aspetto. Ma è stato il ricchio nito. Il ricchio nito. Uhuh. Ma no, no. Vai, Calam, è entendito. Io lo sentendo. Credo che hace anni che non mi aburro. Io non so cosa si aburro. Perché tampoco se lo che è aburrirsi. Se vive, non ti ha il tempo di aburrirsi. No? Si, è che non lo so. È curioso, eh? Però da giovane può essere che si. Si, però è che anche da nina. Io mi ricordo che io non... Era un aburrimiento facile. Jaden, bye bye. Grazie per aver guardato con noi. Bye Jaden, sì. Jaden. Oh, sì, è su. Caleb, guarda, guarda che si è connesso. Adesso Caleb piange. Fino alle due starà a giocare adesso Caleb stanoce. Stanoce, stanoce, starà connettato. Stanoce, stano a giocare adesso? Che è il momento? No, stano a giocare. Dove è? Dove è? Denise! Denise! Non l'hai vista? Che asia c'è? Pensavo si poteva salire Cioè poi vuoi rire? Accendo già il latte o no? Sì certo Io sono già chi sto prima Sì Olè mi sa che abbiamo vinto Io non mi sto connettando Lo voglio giocare con ella Non va? Hai messo sì? No manca così cosa Non va con il coniglia Perché io ti ho una estrella A l'uego vas Ah pepe No ma sai come il nostro Ah no è lì lì il latte E che cazzo è la ligu di Boom Allora alla domanda Conosci Dragon Ball Io ti rispondo solo in una maniera Non mi ricordo se era il 95 Che già leggevo il manga Di Dragon Ball Eh marchito Sì però è random Io dopo il tasto che non la separa Quindi si conosco molto bene Dragon Ball Non gli ultimi GT Tutti i tempi Però I primi si Dragon Ball GT Quella mi piace la sigla Ogni mistero per Conad Quella è un'altra ancora Vuole più mistero Uff Uff Siamo credo i nostri fans Más piccoli di Salta Almeja A ti 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 piace? Marquitos Che cos'è? Che modalità è? Che modalità è? La mischimolusca Ah però la lavamo a sera Non è un problema Sì sì però Ah una non la lavamo Quando salga Per casualità no? Wow Ok Omar Grazie per essere stato Omar aspetta che ti do I permessi nel server Tieni Già un secondo La mischimolusca Omar 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 Eccolo qui Richiedi la mischimolusca Omar E Diamo il permesso Come amico Benvenuto sul server Omar No No Oi Carl Hola Eccolo Carl Ah io tu non te notifico Ma Carl Il Discord Il Discord Si o che? Ah Cari tu te uniste al Discord? Creo che si no? Non me acuerdo Ups 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 Mi pentava Un pochino E papà Ok A ver se Carlo Non ci sono in categoria Anche in categoria Anche in categoria Anche in spagnolo e sempre diamo le notificazioni quando giochiamo e se non sape con chi giochare sicuro qualcuno lo trova per giochare e anche tutti i codi amici del usuario confirmato del canal per esempio oh oh qui sempre hai bisogno di tenere cuidado si, è privata cosa? il partito bueno, io credo che non sta tanto male questo partito no, non ok io mi sto comendo pipa che buona una della traslata una della traslata una della traslata una della traslata e e e and 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 marcos and 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 Tranquillo Tanto non è che Eh Carl Non lo sai Mira Guardate uno Benvenuto 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 Allo Boom Dai Voilà Bella Allora Quattro mongole Su comò Quattro almejas Poca almejas Tieni 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 Vieni qui Almejas Alcuna Almejas Uno Pocas Pocas Necesito di mas Necesito di mas No me lo creo Grande Marcos Bien hecho Carne E io che se Qualcuno si ricorda la contrassegna 2850 Aveva detto Boh Avemo un partito Un partito nuovo Carlo Solo parati Perché oggi Il cuo è E il cuoco è molto lento No No Entonsse Non cambiamo A se Muccio La lobby Ma non ti preoccupas Che ora Ora la mamma Siamo Cos'era 5555 Oh Carlo Intenta 5555 5555 5555 Poi Puede ser Che è questa Dove 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 Stanno Da Nostra Almejas No 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 le contrassegna b***h che la teniamo oli bolli wow ah no 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 oh vale wow come mi mataste che la si do ratti grande rattino squittino rattino quante bestie al zio tovia oh no 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 raga raga veramente ratti ti odio chiaro, chiaro, Carla e stanno uno meno questo è il classico handicap match per questo non mi muovo molto ne ho posto uno solo bella bella eh, mira, in questo periodo si la brocia non sai come disirte è in piensa a tenere gana di Call of Duty allora mi incontro in Splatoon non voglio disparare quindi allora guarda Marcos ora ne faremo una o tre 4 contro 4 così tiene più sentido seconda questo può essere che magnana il giorno magnana che io non sarei ma questo sarà leggenda quindi e tutti, tutti in servo di discord questo è lo fondamentale abbiamo servo di discord di frutta madre no? di frutta madre proprio come pura menta no? youtube è una pura menta voilà aiuta, aiuta che gioco è? ah, clan blitz, clan blitz ci sono wow è grande frank ah, 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 ah oh, l'è com'è c'è? finito? che ti pare? buono mi sento buono se non lo fa dentro questo si fa velocissimo questo tempore voilà no, lo sapevo lo sapevo lo sapevo hello hello non lo ricordo tu lo ricordi? da l'inizio mi so hallo sniper how are you sniper? it's more time we don't see you no? yeah we don't time che faccio? perché stavo lanciando me ne servono pochi Sergio Sergio ma come cazzo giochi Sergio Sergio ma perché non mi daste dose al me cazzo a me e tenevamo la bolla grande tio vabbè provo a chiedere questo qui che ho un ricordo veramente vago ma mi ricordo con una faccia bianca con un capellaio con un capello con un capello ah no veribola hi sniper ho mai noto di te sì sì siamo molto noobs in Rocket League stiamo quasi a schab ofre era forse con lui che parlavamo sì abbiamo sempre con Diallo in Rocket League spielte perché abbiamo vor una prima volta chiamato oh Carla no non ci vediamo tranquillo non ci vediamo non ci vediamo sì sì tranquillo Se termina il partito si può, se no non passa nulla, ragazzi Cioè... Cioè... Ci sono volte che... Si... ...se ha di mantenere il tempo Quindi... ... noi lo comprendiamo molto bene Bueno... E... Ah, bene... E... ... abbiamo... Ah, super! Dice che ha il internet nuovo per questo No... ... ... Ma non era lui che ci aveva regalato qualcosa Abbiamo da un video che ci aveva regalato ... 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 molto. Grande Marcos, mi piace. Ti piace più la massa online, Caleb? Caleb ha il mio gusto, sai? Dai, Caleb. Questa è ira di inferno. Dimmi lo che pensi di Fortunite. Fortunite o come minchia si chiamas. Che ti parece questo gioco, eh? Caleb, dimmelo. Quiero saberlo, Caleb. E scrivimelo. E sponiti, vai. Perché è il mio influencer. Oh, stia, cazzo mi manda, eh? Eh? Ti gusta il gioco del Fortunite? Se hai un inimigo davanti di ti, tu puoi costruire quattro muri, no? Quattro paredes, no? No? Quindi non c'è più il problema del inimigo, del inimigo che hai che destruire tua casa. Però tu puoi subire sempre ma adesso, no? E' olvidarti del problema. Ah, non credi che sia male. Ma guarda come si muove Splatoon, guarda come si muove. Non è male, è felice. Ok, guarda come si muove Splatoon. Tu... Fijate su come si muove Fornite. Parece di giocare un gioco del Nintendo 64 che si parece un borraccio con un problema alla cadera. E' iniziano a venire a sedere. E... Lei numero uno salta, perché se non salta ti matano. Quindi tu ti hai chiesto tutto il tempo sì. Tutto il tempo sì. Entende? Pareci che... Ti pareci su un cavallo che lo ponte. Dai, minchia, ma intonsi... Pone come personaggio Bugs Bunny, no? Eh, non c'è mai problema. No, no, no. E' un cuoco che la persona seriosa nunca lo vanno a cucar, credo. Perché è un cuoco di mierda. A chi lo dico io non voglio arrepentirmi di dire che fornite un cuoco di mierda per persone che devono sopravvivere a che? Se ti puoi costruire una casa se hai un nemico. Tieni che sopravvivere alla tormenta, però ti puoi costruire una casa se hai un nemico. Non. Perché si supone che i videojoggi sono anche parte della evoluzione, non? Che ti hagi evoluzione dentro della tua mente, non che ti hagi retrocedere. E poi, beh, persone che ti spilano da 1000 km di distanza... Puff... Ehm... Beh, già sta. Ehm... Energia, la quantità industriale, puoi bere tutto. e poi se avete più suerte, ti resti all'immo morto con il papà senza che ti incendi nessuno per dare il ultimo tiro non avete altre cose che fare? vabbè... in cui sentito? è proprio il gioco che non ha una finalità propria nel mio cervello questo, ragazzi, vabbiamo a giocare San Moran non c'è, San Moran allora bene noi spiegliamo adesso con San Moran tu hai bisogno di startare il Spiel, ok? sì, sì, è aperto a me stavo aspettando no no 5, 5, 5, 5 sempre facendo directo quando, Alex? sempre è una cosa relativa sì, è molto generalista e faccio un montón di cose durante il giorno a parte dei directi è quello che stiamo comendo ora qui e per suerte non abbiamo hijos no 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 sì e lui cosa fa? e tu che ha il demonio della tua vita, Alex? e tu sei un po' di lega 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 no vale voilà basta basta Alex però non puoi pensare a un discorso e puoi di legarlo così perché sennò perché sennò il discorso è un discorso oh ma no per un secondo per un secondo mi pensavo che era come si chiama? Gere mi si chiama Lusco ho visto Calamanco che mi stava splattando tipo oh è tardi quello se ne ha portato un uovo ti piace? non dico il rumore affatto quella cosa quando hai fatto un piatto eh ho pensato non so se sarà bello o schifoso il rumore si è andato il macello, Ale va bene va bene così così no posso essere già pieno? è possibile? è proprio un mattone wow questo è per è con molte ligazioni come possiamo? ah ma Gioia è Gioia? sì no? ah quindi possiamo giocare siamo quattro persone possiamo fare la Liga voglio fare la Liga può essere che la Liga può essere che la Liga qua quindi non Time no ah ha 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 oh Kaleb e quindi se ti piace la FN di te a te mi gusta la FN ha 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 Kaleb questa è la realtà ah ha 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 ma leo leo Io voglio casarmi con Caleb Perché? Oh, Caleb ha sempre il matrimonio Juntos tu e io Ti vuoi casare conmigo? DoCleb Caloc Facciamo Caloc Facciamo Caloc Caloc suona bene Suona quasi real Che arma di merda Stai qui, eh? Auch hier in Spanien Snipe Esen alle glücklich Auch für euch Me encanta Como juegan al Fortnite Quien? Tu ancora que stai ditlo As tu sharema qua Ay Es que nosotros con Fortnite No vamos muy de acuerdo, la verdad Como ya hemos expresado Ah, ahora entiende las preguntas Indignado de Fortnite Voila Yo me haría un tatuaje Yo también Un bel tatuaje Sulla cara Con scritto En un brazo Fortnite No, no, en serio Perdona, Alex Se te digo esto Ma para mí no es un juego Veo más posible Que nella vida real Se puede jugar a Splatoon Y no se la tonte Cioè No se fornete No se Y te gusta Y te gusta Por ejemplo El movimiento De Fortnite No? Eh, ma vale Ma tanto la gente dice Es gratis Fornite Entiende? Si, pero yo también No es que te encuentras En la calle es gratis La mierda Se tú no tienes dinero Para comprarlo De comer La mierda Es gratis Pero no creo Que la persona Va a decir Que la mierda Gratis Es buena Como Fortnite Es gratis Porque si es un juego Que está Rovinando L'industria De mucho video Que va a rovinarlo ¿Por qué? Porque se pone gratis Tanto hay publicidad Hay tonto Que dicen Es gratis Y después Se gastan Mil euro Por comprarse La cosa No? Si, claro Es gratis Pero luego Ah, perfecto Perfecto Oh, oh, grazie Grazie Ale Ya te stavo blocchando De una manera No De broma Ma Non Estos son los juegos Que van a dañar Lo juego de verdad Entiende? Donde pone un arma Que no ni sabe Nesta arma Como funciona Y Dan a esta arma Un valor Cioè Di sparare No No, dai Yo he cagato Por 10 años Sali en calo De diuti Che no sé Quanto años No Schienziani No, no Caccalisse 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 Cosa ha acceso la switch La switch Per giocare con noi Mira, Alex Porque hay un chico Porque hay un chico Que ha encendido la switch Solo para jugar un partido Con nosotros Así que Queremos hacerle el favor 21-23 Escribió Tienes que aceptar Su amistad antes Oh cristo Oh cristo La próxima Marquitos Hacemos un salmurran Porque en serio Este chico ha venido Solo para jugar un salmurran Perdón Perdón, mam Deve tener que rápida Deve tener que rápida ¿Muy bien, Manu? Aquí ¿Muy bien, Manu? Manu, sí Tanto mañana Haremos el viernes rebelde Que siempre lo hacemos Por el viernes Entonces vamos a streamar Un poquito más tarde Y todo Buenas noches a ti Oddio, Carla ha entrado Melodic dubstep Espera, espera Alex, Alex Mira, te digo La música A seconda de lo que tú Tienes como Riferimento musical Entiende Porque me gusta casi toda La música a mí No tengo Un block No se limita a un solo estilo No me limito a nada No me limito a nada No me limito a la música No me limito a no Entonces me voy a poner Mi chiamila donde estaba No me voy a poner el limite presto sono molto selettivo per lo cuoco e poco con la musica, la comida e la persona però con lo cuoco si eh, questa è la mia religione casi lo cuoco già dovresti continuare un secondo perché io devo mettere permesso a questi ragazzi che semmai vogliono vedere il server postate il reggaeton e sospettivo e lamentable mira il reggaeton ne scuscio tambien, non tengo problemi, ti repito ti dico ho passato la sensibilità nel mio e va molto meglio ma tu con il tuo puoi fare io per me va molto meglio perché se mi sento più sotto controllo caro? io non posso e a carlo gli ho dato il permiso e a blocchi game gli ho dato il permiso what is the tournament? a breve dobbiamo rifare il tournament eh? cioè dovremmo fare il tournament hola the gamer switch edition hello hola 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 amico hola mi è venuto mi è venito mi è venito mi è venito benvenito tu prima vez por aquí veo e battaglia dei gallos mira io sobra mi cosa privata mi gusto privato normalmente dico ma non dico molte cose e qui questa domanda che tu mi vas a fare può essere che a molte persone non le puoi gustare la mia risposta quindi non vorrei contestarti però ti dico che hai cose che in naturalezza passano e quindi non lo so però non posso dirti nessuna cosa però credo che hai entenduto tu se mi gustano no Gamer, allora che tal, mi hai invitato tu l'amicità? E ora abbiamo che fare un po', ora che non lavorasci più per la mattina, abbiamo che fare più live per la mattina, perché io voglio, altra volta, molti amici latino attivo che juegan in Splatoon, perché mi ricordo che nel primo periodo l'abbiamo passata molto bene anche con loro, sono molto affettuosi. Si, è vero. Quindi non spiegamo un po' più nella live della noce. No, non ce la facciamo, sai? Mi sa che è in parte per colpa mia. Ho giocato un malissimo. Alex io non ti dico che non mi gusta, però non ti dico niente che mi gusta, però ti dico che credo che... credo che... credo che... No ho perso. Si. Un po' più ragazzo. Un po' più ragazzo. Si. Un po' più ragazzo, ragazzo. Estado da asciugnare così. No, non si siente così. Perdonaci, perdonaci. Perdonaci. Io ho capo di una altra cosa. Lo scusate. la battaglia dei gaios è intendo proprio come la luce che facendo gaios due gaios territoriali no? la battaglia dei raperi quindi sì, mi piace un montone la battaglia dei raperi ma che dà un altro nome? ho amici che faccio questo ho amici di persone conosciute che faccio questo di lavoro che sono cantante e ti dico sì, amo, amo però la cosa che non mi piace è che posso capire bene solo solo la cosa che faccio in italiano, per esempio che è il mio idioma natale perché lo che faccio in spagnolo non mi serve bene perché non comprendo molto ci sono molte parole che ci dicono che ci dicono che ci dicono hai giocato ancora? chiaro, chiaro, chiaro che puoi giocare conmigo io chiedi accettare l'amico però non sai come serve è bellissimo il fatto di oggi penso che hai giocato allora, adesso muovi adesso muovi oggi cosa hai visto lo che è passato? vorrei accettare l'amico? c'è. Ah, vien? Vien, rapero, mi gusta, mi gusta, Alex? Uh, l'amica giapponese. E uno l'abbiamo cambiato, eh? E tiene algo di tuyo? Che puoi descociar? La 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 ma gamer però tu non mi hai aggregato come amico, tieni che aggregarmi? solo la battaglia, a chi è freestyle, the cage a freestyle così si chiamano la battaglia, the battle, si, the king battle, però non lo si è bene come si chiamano anche i jam sessions, lo si obispo oh mio dio vuole me, oh i casciolini sono benissimo ok ok eh però che cosa ti rievo? oh io non sono capace con il franco tirador, ragazzi in serio, os pido perdono ogni volta che vedo una merda come io a jugar con il tirador o si te da bene o no, il tirador cargatintas, come si chiamano a mi se me dava, non è che non se me dà bene, se me dà fatale io sono rovoli rovoli quindi cosa dobbiamo? ora oh ragazzi ragazzi, ragazzi mi potete aiutare, Joey? qualcuno in spagnolo? mi potete mantenere in vita qui? così aggrego il chico ok qualcuno in spagnolo così aggrego il tio, un secondo grazie grazie per il tuo lavoro ascolta ahi sto e ciò grazie ahi va ole no no ti ho respirato tutto si cosa è? allora este che lo stavo ruvando madre mia guardate che è inganciato ora fanno se questa va dall'altro lato va vale è che non metti le paline no 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 volevo prendere quelle tre si viene quello dietro figo ce n'è un montone eh e stai trovando tutta la volita sei detrasse boh yeah 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 buon game ragazzi io ho fatto cacare ah in tre ehm ah ma c'è gente vediamo di liga vediamo in privata quanti siamo Sniper versuchons quattro in privata ma vediamo quattro ma vediamo quattro ma vediamo quattro o sono quattro appunto non deve andare dietro si o hai provato liga oh marchitos liga 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 ok dann doch liga glaube ich questo è un cambiamento no un cambiamento 1 1 1 1 uno 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 Il 16 Cosa è il 16? Ah Passaggia Roe Vli Ah Joy Questo è tutto E' tutto Perché? E' buono No? Mi hai detto? Come per dire il refrain? No 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 Eh? Non lo scrivete E' qui No? No No dobbiamo prendere più spagnoli Hai ragione Sono Cioè si il italiano è bello E' tutto quello che vuoi Perché a me Alla fine sono Ottivissimi Con un gruppo e tutto Non è che Che ho mangiato Oltre tra Tipo Non tutti No Vabbè Un'altra parte E' un'altra parte E' un'altra parte E' un'altra parte eh volevo liberarmi di tutte le mongole per sparare ah non puoi? no buonasera super non deve tenere le mongole questa super che tengo io si poi adesso mi stavo liberando della mongola in maniera... no, ho intendo perchè non stavo questa era la condominciata professionale per mongol goal eh ma io sta aperto? ora si credo è un buongol goal no? no, non si capiria no tiene una parete no? no! ho valido tizan oh no którzy platni? molto molto bella vecchia fattoria no 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 minchia pensavo che c'erano i miei i miei non c'erano è difficile giocare a buon gol senza poter comunicare sì chiaramente questi 4 saranno già sicuramente su qualche vale vale intendo il perché perché talmeno non mi durano dall'inchiostro perché non tengo le perk ma che coglione che sono ragazzi ho messo le tante senza percini quindi il mio hink finisce molto veloce ah vedi lo riesco ad andare avanti ma non è che sia una partita molto di contrasto ha legato le vongole no 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 minchia non c'è una vongola qua non c'è una vongola ti rendi conto? queste 4 sono 4 lì le sono già prese 4 lì nel frattempo gli altri stanno mettendo tutte le vongole perché nessuno sta proteggendo va bene va bene così ci hanno distrutto ma non mi fa bene mi fa bene mi fa bene sorry guys ok can I tell me she'll do it in one yeah it's done no I can't do it since then again una vez eh chicos questo è un rematch rematch, ma non un bongol col no? si si davvero? te lo hanno chiesto? e il che? te lo hanno chiesto? l'hai chiesto? è del fiso vale e mi sa che l'hanno giocato mai in Liga sai? no no oh la Liga è tossica avessi rannamos oh figlio di puttana sorbita di dice un'altra volta gli stessi e adesso è un rematch oh dai questa gente è forte c'è un sniper che ammazzava tutto e si muove ma già senza bongol gol è difficilissimo muoversi in questa mappa senza morire no? immaginate che bongol gol non avanti non ci credo non ci credo figlio di puttana mappa mappa ma come cazzo è possibile eh non me lo creo mappa 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 non ci credo non 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 il pomeriggio non si no dio parliamo 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 ah parliamo che mappa mamma vale io non ti ando a mio io voglio lo qua a ver che non vaia ne non vaia ne non vaia ne no figlio di puttana boh grande grande va parità boh grande chicos incredibile si vamos cosa dici ti ho snippa mi piace mio privato questo mi piace molto e già meglio per me questo diventato troppo no no pietra che vediamo come vediamo ok Olè! Dottore Di Nicola. Cosa? Di te. Ti esprimeremo. Dottore Di Nicola. Da. Oh, di nuovo un traditore eh? Again, again, tell me. match the the revenge of the revenge of the revenge si, otra vez ma oggi così io la quello in difesa vai alla sua base no ma in difesa alla tua sì io credo che quando mi tocavo con il volle è quello che faccio, il video che marcano hola Gustavo hola Gus a ver, a ver, a ver se hai a qualcuno miro la base di mia no qui a ver no l'ho matato proprio quando puttana Eva oh che tal Gustavo oh Gus e nel video di oggi è il tuo nome tambien e ti canto la canzone se escucha la canzone quando dico una nuova auto che fa Gus 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 se si si no nooo mi 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 Che dici? Spera, non accade nel diretto Sì, stiamo arrivando al finale Gus Gus, tranquillo che dalla prossima settimana Puede essere che Nos bevamo un pochino masco alla nocia Sì Entendete? Quindi Non ti preoccupi E tu, Gus Dicelo a tus amici di Facebook Di cosa così, di seguirci un pochino Di suscribirci al canale Aiuta un pochino mas Gus! Gus! Tu che tiene mucho amigos Oh, Lennox Ok Thanks for saying hi Yes, thank you to pass and salute us Oh, no No Palizzo, 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 palizzo E' un pochino ma basta è stato sattissimo ma che cosa? non mi piace questa modalità non mi piace la modalità non mi piace solo quasi quasi Rocket League dai credo che si spiega Rocket League Snipe Snipe Rocket League ma dovremmo cercare ma dovremmo cercare ma dovremmo cercare la stream si avremmo un nuovo stream in 5 minuti in circa 5 minuti ok ragazzi cerchiamo questo stream vogliamo giocare un po' a Rocket League vale Markito 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 oh si oh mio dio la prima persona con disc jam ma chi è? non lo so 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 inside non lo so non lo so non lo so non lo so See you later Thank you guys